Oggi è abbandonato tra i rifiuti ma potrebbe essere un pezzo di storia della nostra città. Un cippo marmoreo di 2000 anni è stato ritrovato da alcuni cittadini di Giuliano in un cortile di via Cumana. Un monumento funebre che secondo approfondimenti fatti dagli attivisti che già qualche anno fa fecero la scoperta si trovava sulla fascia costiera, precisamente in via vicinale recapito. Un monumento funebre che fu ritrovato nel 1855 presso la Masseria Reginella che si trova in zona via San Nullo, più o meno dove interseca via San Nullo, interseca tangenziale, cioè via vicinale recapito e fu all'epoca ritrovato da alcuni contadini che usciva, cioè era quasi totalmente sotterrata per una centina di centimetri. Il preside Sellitto all'epoca la fece portare qui in zona. Era un semplice monumento funebre però senza nessuna spoglia mortale. Era dedicato a Polibio che era uno schiavo liberato dell'imperatore Claudio. Il reperto ha più di 2000 anni. Oggi però il monumento è completamente abbandonato tra rifiuti, auto e scooter e da poco è stato anche imbrattato. Della notizia ne sono già venuti a conoscenza qualche anno fa i commissari prefettizi del comune e la sovrintendenza. La richiesta è che venga valorizzato e soprattutto posto in un luogo dove si eviti che venga ulteriormente danneggiato, visto che è già stato autonomamente spostato da un posto all'altro del cortile, causando la rottura della parte inferiore, ed evitare che si calpessi ancora una volta la storia della città. Abbiamo chiesto che se questo pezzo, questo cippo mormore, era importante anche per la città di Giuliano, venisse depositato oppure impiantato perché venne in piazza Marteotto oppure sulla chiesa di Santa Sofia. Diciamo che i commissari hanno anche letto, abbiamo anche avuto un incontro a loro con i commissari, ma non è che se ne è fatto niente. Abbiamo contattato anche qualche dirigente della sovrintendenza dei beni artisti. Loro sono a conoscenza di questo cippo, però loro dicevano che senza un progetto valido non lo potevano toccare, non lo potevano muovere. Noi diciamo che se è un cippo importante anche per la storia, per la cultura di Giuliano, che l'attuale amministrazione se ne faccia carico, contatti la sovrintendenza dei beni artisti e culturali e decida, facendo anche un progetto, dove posizionarlo perché si può ancora recuperare. Se aspettiamo qualche altro anno, troviamo che si distrugga e vada a perdere buona parte della cultura.